A distanza di pochi giorni dall'operazione svolta dai carabinieri del comando provinciale di Grigento a Canicatì e a Realmonte nell'ambito di servizi indirizzati al contrasto dei reati ambientali che aveva consentito di denunciare un 61enne di Portempedocle per reati ambientali e di sequestrare una discarica abusiva a Realmonte, un altro colpo è stato messo a segno dall'arma dei carabinieri. Questa volta a Ravanusa i militari della locale stazione hanno scoperto un'altra discarica abusiva realizzata sotto il viadotto San Riccardo in una zona isolata del comune Ravanusano in Contrada Romiti. In un'area di circa 150 metri quadrati erano ormai accatastati rifiuti di ogni genere, carcasse di auto abbandonate, pneumatici usati, materiale di scarto oltre che ad amianto ed eterni rifiuti urbani e altri rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente. L'area interessata è stata sequestrata in attesa delle operazioni di bonifica e di ripristino dei luoghi. Sono in corso certamente da parte dei carabinieri volchi ad individuare i responsabili.